Anziani ancora sotto assedio da parte di truffatori e ladri. Anche nella mattina di oggi, 14 settembre, due colpi sono purtroppo andati a segno, puntando sull'ingenuità e la buona fede di altrettante pensionate. Attorno alle 10.30 a Podenzano si è consumata la prima truffa. Un'anziana, nel rientrare in casa, si è trovata tre uomini davanti alla porta. Due di loro si sono spacciati per carabinieri in borghese, sostenendo di aver appena arrestato il terzo, a loro dire sorpreso a rubare nell'appartamento proprio dell'anziana. Hanno quindi chiesto, molto gentilmente, alla donna di entrare e di controllare se dalla cassaforte fosse sparito qualcosa. L'anziana ingenuamente li ha accompagnati, aprendo lo sportello proprio davanti a loro. Da lì è stato facile distrarla e prendere tutto il contenuto, per poi allontanarsi. I malviventi hanno rubato gioielli e contanti per un valore di oltre 1000 euro. Indagano i carabinieri di San Giorgio. Poco dopo, due finti tecnici dell'elettricità sono entrati, con la scusa di alcuni controlli, nell'abitazione di un'anziana rottofreno, chiedendole di mettere sul tavolo tutti i gioielli in modo da non rischiare un cortocircuito. La donna c'è cascata e i malviventi hanno fatto sparire ben quattro anelli d'oro sul posto i carabinieri di San Nicolò.